Sono Maurizio Zandri, sono un docente di questa università e oggi sarò impegnato nella presentazione agli studenti del nostro corso di laurea in studi internazionali. Un corso di laurea che è molto concentrato sulle saper fare e sulla capacità di operare a livello internazionale. Per questo abbiamo ideato una sorta di gioco di ruolo, abbiamo montato qui fuori una tenda araba dove gli studenti che vogliono partecipare a questa iniziativa, dividendosi in due gruppi, andranno a fare delle proposte di un progetto di sviluppo per avere in cambio delle armi e quindi per far parte di questo programma internazionale di riduzione degli armamenti nelle zone di conflitto. È una modalità con la quale essi potranno confrontarsi sia con comportamenti di carattere psicologico, sia con attenzione ad aspetti antropologici, ad esempio come comportarsi in presenza di un capo tribù arabo, sia rispetto alla costruzione di un progetto vero e proprio nel suo budget, nella sua proposta di vari interventi, selezionando tra un elenco che noi gli daremo. Spero che sia un momento divertente ma anche un momento di riflessione sull'opportunità di intraprendere questo corso di studi qui da noi.